Allora, è finito Macao, è finito Macao e io voglio ringraziare innanzitutto il regista Gianni Boncompagni che ci ha dato la possibilità di divertirci così, Irene Gergo, coediatrice, io voglio ringraziare tutti i comici, tutto lo studio, ragazzi per favore, voglio ringraziare i ragazzi di Macao, i comici, i ragazzi che ci sono stati vicini, ci hanno dato forza, ci hanno dato vita, Di Giovanni, voglio ringraziare lo studio 3, Voglio ringraziare il gruppo, la sartoria, gli autori, i tecnici delle luci, l'audio, e tutti quelli che sono stati con noi per questi quattro mesi, Grazie, grazie a tutti voi, siamo divertiti, grazie a tutti voi. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti